e mi stia in anticipo e sono andata da sé a far vedere due cose tutte le volte che entro nella profumeria e penso a sapere che voglia rubare perché io guardo tutto, tocco tutto perché magari mi interessa il materiale dei flaconi e non mi faccio mai consigliare su niente quindi guarda sempre malissimo e mi stia in anticipo e sono andata da sé a far vedere due cose tutte le volte che entro nella profumeria e penso a sapere che voglia rubare perché io guardo tutto, tocco tutto perché magari mi interessa il materiale dei flaconi e non mi faccio mai consigliare su niente quindi guarda sempre malissimo C'è tipo stamattina ho preso questo Che è uno scrub per il cuoio capelluto di Drunk Elephant Ma in realtà non me ne frega niente Lo scrub non mi piace tantissimo il flacone Lo faccio vedere Amiche da casa siamo tornati Per esibirci per voi Ormai un professionista Vado col secondo Dai otto C'è lei sotto una zampa E lì otto Lì Dai vieni Giù seduto Bene No questo era brutto il tiro Ultima possibilità Eh però cazzo Lo so ragazze lo so Lo so Lo so È andato giù il sito Va bene Adesso prendo 5 gocce Xanax Cerco di capire cosa sta succedendo Sì il codice si vede È normale Non succede niente Perché si deve incastrare Con la vostra data di iscrizione al sito Quindi il fatto che si veda Fino a quando non lo attiviamo Non succede nulla Allora Paolo Stella sta dando una cena E io sono sotto la mia copertina elettrica Scaldasonno Questo è lo stato Insomma un po' Delle cose Ero ovviamente invitata alla cena Ma domani devo essere A Torino Per artissima Fare una cosa Che poi vi racconto domani mattina Ieri ero a Firenze E volevo tipo arrivare viva Fino a sabato Anche perché voglio vedere Cosa succede domani Quando parte Black Friday No Pink Friday Comunque Paolo vende Tutta la rete di casa sua A prezzi scontati Io voglio comprare Forse i tavoli Ma vi lascio il link Il link per acquistare Tutte le cose Che trovate qui in casa È Questo Che trovate qui in casa